Come scegliere la migliore o le migliori strategie di copy trading grazie al covesting di Priming. Un caro saluto e abbraccio e benvenuto a questo video pratico della playlist che abbiamo voluto dedicare data la collaborazione che stiamo facendo e il fatto che ci troviamo molto bene sia nel lavorare noi attivamente come traders che anche nel creare strategie nostre su PrimeXBT quindi nel covesting abbiamo voluto creare questa playlist pratica proprio per semplificare la vita a chi si avvicina per la prima volta a questa piattaforma. Bene quindi andiamo a vedere assieme come proprio come scegliere quali sono diciamo i punti chiave per scegliere il miglior covesting o la migliore strategia di covesting quindi copiare il trade abbinarci al trade che altre persone stanno facendo ovviamente in maniera proficua non andremo a cercare chi non sta ottenendo risultati ma anzi attraverso vediamo assieme un sistema per selezionare i migliori covesting, le migliori strategie della pagina principale del nostro account di PrimeXBT faccio riferimento l'abbiamo visto anche nel primo video c'è la parte covesting dove qui si vedono le migliori performance della giornata o i migliori quelli che hanno più stelle eccetera e vedremo anche tra un attimo il significato di queste stelline. La situazione personale in termini di covesting in questo caso io adesso sto seguendo da mio account personale la nostra strategia Crypto Learners quindi numero di strategie che sto seguendo una qui non si legge qual è però è proprio quella nella giornata di oggi stiamo performando un più un 85 per cento un più 12 per cento da da quando ho iniziato a seguirla e parlo di pochi giorni proprio per da quando ho attivato diciamo questo questo account per per fare il tutorial. Come accedere alla parte covesting? Accediamo da qua qui sopra in alto clicchiamo su covesting. Perché il covesting è qualcosa di estremamente utile e importante? Ricordiamo che il trading è solo per persone esperte e comporta rischi di perdere il capitale anche in maniera totale non che il covesting non comporti gli stessi rischi assolutamente sì quindi bisogna sempre essere in grado di gestire tutta tutta questa questa parte essere consapevoli di questo però possiamo avvicinarci al trading fatto col covesting o copy trading anche se non siamo degli esperti. Ci sono comunque delle precauzioni da adottare al fine di limitare le possibili eventuali perdite però in modo da andarci a prendere solo la parte migliore. Le vediamo assieme. Allora partiamo dal selezionare o da scegliere una strategia valida. La prima cosa che avrebbe da fare è andare a cercare chi ha performato di più e scegliere questa strategia. Potrebbe essere la cosa migliore ma non sempre è detto. Allora secondo me ci sono almeno tre passaggi importanti. Il primo è selezionare chi è attivo come strategia da un certo numero di giorni. Almeno 30, 60 è ancora meglio. Difatti qua abbiamo come vediamo tutte le possibilità di selezionare nella nostra ricerca le varie strategie. Quindi mettiamo dai 30 giorni in su. La performance di oggi ma non è particolarmente interessante perché ci sta che un giorno non vada estremamente bene, il giorno dopo vada bene. L'importante è in un'ottica di almeno 30 giorni che le operazioni siano state più positive che non negative. Questo è poi un po' il segreto del trading generale. Da qui posso selezionare tutti quelli che sono, qui parte addirittura da maggiore del meno 50%, ma vorrei vorrei stare almeno sul positivo. Meglio ancora se vado a prendere strategie che hanno performato da quando sono state ideate più del 50%, qui posso anche selezionare la tipologia dell'asset su cui lavora la strategia. Ci sono strategie che lavorano solo su BTC, alcune solo su Ethereum, alcune hanno come base US Dollar Tether e altre US Dollar Coin. Lasciamo BTC che è quella che ci interessa al momento e qui posso selezionare anche il numero di followers. Questo è relativamente importante perché ci possono essere magari strategie molto valide che sono appena partite o magari non sono state pubblicizzate. Sono partite anche magari da 30 giorni o di più, però non sono state pubblicizzate, stanno performando bene, però insomma sta a te scegliere questa cosa. La cosa più importante, ripeto, la prima da cui partire almeno 30 giorni di performance. Poi ovviamente le performance devono essere positive. Una cosa importantissima secondo me è che le performance devono essere, devono avere una certa costanza. andiamo a vedere un esempio. Prendiamo qui la migliore strategia e entrando dentro ci possono vedere tutta una serie di indicazioni, quindi dal nome della strategia, il totale che ha performato dall'inizio, da quanti giorni attiva, in questo caso 35 giorni, l'equity, quindi quanto il manager della strategia ha investito in questa strategia inizialmente, anzi al momento, sono 0,1 BTC, quindi 6.496 dollari. L'equity dei followers, ci sono 300, eccolo qua, il numero di followers, 313 persone che seguono questa strategia per un totale di 191.000 dollari, valore attualizzato del bitcoin e ripeto attiva da 35 giorni. Qui vedo i profitti, posso scegliere l'equity del manager, l'equity dei followers, il margine che di volta in volta viene impiegato e utilizzato e un altro dato importantissimo è la profittevolezza o profittabilità, adesso mi confondo in italiano a dire, giorno per giorno, mese per mese. La cosa ideale è trovare una strategia che impiedi da più mesi, questo è l'ideale, e che faccia profitto con costanza e che i profitti non siano un mese il 1000%, il mese dopo zero, ma che abbiano una certa gradualità. Ovvio, questa è un po' come la vedo io, no financial advice, voi state a scegliere quello che è più indicato per te. Ovviamente sì, avere una costanza, adesso questa è in piedi da poco più di un mese, quindi 35 giorni. Un'altra cosa importantissima è il numero delle stelline, cioè o meglio le stelline, e qui c'è proprio scritto che cosa indicano. Ci può essere un massimo di 5 stelline, se non ci sono ancora stelline, ok, mi interessa relativamente, a me in particolare, ce ne devono essere almeno una barra due. Che cosa rappresenta? Con, e qui le vediamo tutte. La prima stellina, il manager, l'equity del manager, è di almeno 0,5 bitcoin. Vuol dire che, insomma, ci crede, o a grande disponibilità, o comunque ci crede. Poi ci possono essere trader bravi che sono partiti con un'equity molto più bassa. Ad esempio il nostro, mi permetto di dire il nostro caso, perché la strategia sta funzionando. Questo diventa ancora più importante. Negli ultimi 60 giorni il numero di giornate di trading, quindi presenza di trading attività, è più grande uguale a 30. Quindi c'è una costanza nel trading. Non sono solo colpi di fortuna che ci può stare in una strategia di trading. Il manager che fa un trade alla settimana o ogni due o tre settimane, però non mi dà questa grande affidabilità. Vorrei vedere da seguire una strategia che ha un numero di giornate di trading un pochettino elevato. Negli ultimi 30 giorni, altra stellina, il margine usato non è ceduto del 40% e quindi è comunque il trading volume o il volume di trading è stato più di zero. Questo è estremamente importante. Vuol dire che il drawdown non è stato estremamente esagerato. Negli ultimi 30 giorni la percentuale fra trade profittevoli, quindi posizioni profittevoli, in comparazione con quelle chiuse non profittevoli è stata almeno 70 vincenti e 30 perdenti. Negli ultimi 30 giorni il turnover è stato più grande o uguale di almeno 50 BTC. Diciamo che la prima stellina, quella dei 0,5 BTC, è l'ultima e molto legata a quanto il manager mette dentro nella strategia. Le altre tre sono sicuramente più importanti perché fanno vedere il polso della situazione del manager. Ok, quindi questo è un pochettino che si può valutare tutte quante, però ripeto, io starei almeno sulle 60 e sul 50% almeno di guadagno dall'inizio. Si può vedere un'altra cosa importante da aggiungere, ma lo andiamo a vedere da qua. Ecco, entrando direttamente qui nella parte covesting, vado su manage una volta che sono entrati in una strategia, quindi qua ci clicco sopra. Ecco, una cosa importante che ritengo opportuna condividere proprio per tutelare il capitale è settare sempre uno stop loss. Magari il take profit non ti può interessare, ma lo stop loss sì, nel senso che puoi decidere a che percentuale smettere di seguire questa strategia, che percentuale di perdita. Quindi così ti prefigge un obiettivo e qualora per un qualsiasi motivo questa strategia o un'altra strategia che tu possa seguire non performa, non sta perdendo, ti vai a tutelare. Questo è un consiglio secondo me estremamente importante. Mi fermerei qua per non allungare troppo, non voglio appesantire questo video, li voglio in questa playlist rendere il più usufruibili e leggeri possibile, proprio per muovere i primi passi in PrimeXBT, scegliendo appunto trading o covesting yield o in questo caso il covesting, quindi il copy trading, giusti parametri. Quindi grazie ancora per essere stato, essere stata qui con me. Un caro abbraccio da Alberto di Crypto Learners e avanti così.